A Carla, che è diventata adulta, senza che ce ne accorgessimo. A Maria Grazia, nostra generalissa. E a Michele, che mi fa essere un uomo migliore. Perché non ci sposiamo? E scendo. Vorrei che lui amasse solo me. Tutto bene? Sì. Vorrei che sia diventato povera, poi nessuno mi ami più. Fammi un sorriso. Lasciami! Ma che cosa fa? Ma che cosa fa? Ma che cosa fa? Fa' un libro. Ma che cosa fa. Sta' un libro. Grazie.